Giorgio è terminata da pochi minuti il confronto dei tuoi ragazzi con il Petrarca Calcio, quali sono le tue impressioni? L'impressione è che è stata una partita secondo me molto divertente, i ragazzi hanno cercato di mettere in campo quello con cui si è lavorato durante questi mesi qua e ci siamo riusciti chiaramente con dei alti e bassi come è normale che sia a quest'età qui, però mi ritengo soddisfatto. In campo qual è stata la cosa che ti è piaciuta? Mi è piaciuta che i ragazzi qualunque cosa è successa in campo dalla più positiva alla più negativa hanno continuato a giocare, hanno continuato a divertirsi, ho visto tra loro armonia e questo mi fa ben sperare perché è un gruppo dove è cresciuto proprio per dei valori umani che sono stati emersi durante la stagione, sono dei ragazzi che si sono applicati, hanno fatto gruppo, sono degli amici e quindi mi ritengo veramente soddisfatto. Quindi nel proseguo, quali saranno gli obiettivi da conseguire? L'obiettivo con questo gruppo è quello di continuare a crescere, è quello di continuare a mettere mattoncino dopo mattoncino delle nozioni in più per portare i ragazzi alla massima crescita possibile di questa stagione. Grazie Giorgio. Grazie a tutti.